Musica Ora ci siamo, ecco, siamo proprio nel pieno, possiamo svegliarli? Svegliamoli I clandestini li svegliamo? Sì, i clandestini, sì, svegliatevi tutti, anzi invichiamo tutto il cast a venire sul palco Venite, venite, entrate, entrate Sono tanti? Sono tanti, più o meno una trentina, quindi ora vediamo anche qualcuno dei protagonisti che ha anche l'abito di scena Stiamo pulendo questo spettacolo Assolutamente, che debutta il 27, va avanti fino al 30, poi riprende col nuovo anno Sì, dal 2 al 5 gennaio, sempre nella cornice bellissima di Mola di Bari, del Teatro Van Westerud Mola di Bari siede anche di Tutti in Scena Cultura e Spettacolo, l'associazione che ormai da anni organizza anche, come in questo caso, dei progetti molto importanti di sensibilizzazione come questo spettacolo Sì, questo progetto di Notre Dame, questo spettacolo rientra in parte in un progetto che si chiama Svite il Bullo per contrastare il bullismo e il cyberbullismo, insieme, in collaborazione anzi con il comune di Mola di Bari È quasi in modo l'emblema È un tema importante, assolutamente, perché Notre Dame abbraccia varie tematiche, tra cui anche molti temi sociali quindi gli spettatori avranno modo di toccare con mano sia il cuore che la storia E non finisce qui perché c'è una novità importante da un punto di vista anche tecnico Assolutamente sì, ad esempio, per non lasciare nulla a caso, stiamo perfezionando con un grande ballerino, attore che è Angelo Di Figlia, ecco, lo possiamo chiamare Si era nascosto, si era nascosto Si era nascosto ma invece ti ha chiamato, ti ha chiamato, tutti qua, tutti qua Poi me la farà scontare, però Ti ho sentito un po', no? Cosa? Col pugno di ferro per rendere tutto un po' più perfetto No, è perché il tempo è un po' poco, perché appunto sono qui da due giorni e bisogna lavorare il più possibile quindi non ci sono pause, oggi non c'è niente No, la pausa per mangiare c'è sempre Quindi, ecco, insomma, io ormai li conosco, siamo amici ed è sempre un piacere tornare qua perché c'è sempre tanto entusiasmo e quindi mi piace poter dare una mano laddove posso quando serve Notre Dame è anche un momento un po' particolare perché è uno dei musical più conosciuti al mondo più replicati in assoluto, quindi il rischio di inciampare è elevatissimo Si, ma su questo io ho meno responsabilità perché la regia è sua Come sempre Sono venuto a dare una supervisione un po' esterna perché a volte serve anche dare appunto un occhio esterno perché lui lavora con i ragazzi duramente tutto l'anno quindi ci vuole proprio un occhio esterno, è umano chiederlo proprio per dare una visione diversa Poi non c'è il paragone, nel senso è un nostro prodotto Quindi a noi piace proprio definirci comunque teatro amatoriale perché comunque ci mettiamo soprattutto il cuore in quello che facciamo e questo è vincente sempre Quindi magari possiamo chiedere anche a qualcuno di loro Qui abbiamo Quasimodo Quasimodo E allora come va? Benissimo Che fai nella vita? Io il musicista Quindi comunque sei del ramo C'è qualcuno che lo fa per passione? La maggior parte lo fate per passione, no? È un passatempo particolarmente impegnativo, immaginiamo con grandi soddisfazioni o no? Non un passatempo ma un duro lavoro che comunque deve iniziare per forza con questo Poi è chiaro che si sviluppa tutto il resto Ma c'è qualcuno che sogna di calcare palcoscenici più importanti? Più importante di questo? Hai ragione, chiedo scusa Chiedo scusa Chiedo scusa Chiedo scusa Chiedo scusa Quello del teatro Van Vesterutti Mola è uno dei palcoscenici più importanti Dimmi Ho preso la scivolata Ho preso la scivolata Anche se non sono sul palco ho preso la scivolata Lui sta sempre a puntualizzare Non può sfuggirmi niente E quindi lo ricordiamo Debutiamo il 27 dicembre alle ore? Alle ore 20 e 30 Il sipario fino al 30 dicembre E poi? Poi dal 2 gennaio al 5 gennaio Per una storia davvero senza tempo che è Notre Dame Vi aspettiamo tutti al teatro Van Vesterutti di Mola di Bari E poi? Di sottotitoli Sottotitoli Per una storia davvero di Bari La scrittura di Bari La scrittura di Bari Vaska Grazie per la visione!